vedi che ne fotte a quest'ora a luna di notte io questa sera dovevo festeggiare il nono scudetto consecutivo veramente guarda doveva essere una giornata splendida doveva essere festa soprattutto a Udine l'interiste doveva essere una giornata di merda invece fu tutto contrario hai capito? hai capito? che ne fotte? per favore guarda che schifo il caccio e sciavere qua aveva preparato bottiglia bella fresca caccio e champagne il caccio di sarri dipende bene che mi sta sul cazzo ma alla fine io faccio sempre i complimenti allenatori complimenti allegri assai complimenti complimenti dico sempre si vince tutto assieme si vede tutto assieme ma mi sa che a sto giro non è così comunque buonasera a tutti da TG impare enjoy allora ragazzi mi sono disintossicato onestamente da questo scempio da questo schifo che ho visto oggi onestamente alla fine sai come mi sono divertito a fare la live con voi sono stato più contento ci sono messo a ridere quattro risate alla fine guardavo più i ragazzi che mi scrivevano che è partita perché mi sono detto vabbè ormai ma abbiamo battuto a Lazio ormai con l'Udinese bare non devi parlare prima perché se no fai figure di merda ma io vedi che l'accetto attenzione come tu sfutta io sfutta a te tu sfutta a me fin quando è sfottimento poi fin quando nelle live tuo figlio merda tu sei una merda tuo figlio una merda un buon bambino e sei anni secondo me è una cosa vergognosa che scrivete capito perché ti ho detto fin quando vedi i coglioni rubendini vabbè ci passo sopra però poi faccio queste cose a me poi mi salgono sangue gli occhi che poi volendo dal vivo voglio vedere capito capito cosa che faccio io tu non è una randistata qua hai capito hai capito arrogante tutta arrogante gente proprio schifosa arrogante comunque detto questo parliamo della partita ma ragazzi onestamente ma ci dico a chi ha ne fotte ascolta domenica ascolta no cioè ma già guarda disputo direttamente sarri avevo scritto un posto su facebook sarri campione d'italia mi fa ride far ride sarri campione d'italia ma guarda ma già io ho visto pure a 38 go subiti 38 go subiti non accadeva proprio ai tempi ma quando di denneri forse denneri zaccheroni quei tempi aveva vero non andiamo al ritroso di mai freddi forse mamma mia dieg allenatore inutile in questa squadra poi favore di creazione inutile abbiamo perso abbiamo perso ordine volevamo vincere a tutti i costi e quindi che significa significa certo che avvincere buscudetto allora abbiamo perso ordine e tu che ci fai la spaventa passare come che ci fai la questa juventus ti piace le solde e ti piace ca unica il muzzo con le sigarette ascolta a me siccome purtroppo non lo so c'è tutti sono anche professionisti c'è la formazione iniziale c'è danilo fa schifo danilo danilo benadeschi rames c'è tu non lo vedi fanno schifo che cazzo le mette ma soprattutto danilo metà quadrato facile benadeschi fa schifo mentre chi la dà la costa all'inizio è più fotte poi capisco che per questo anche tu dà la costa fa soltanto 20 minuti e basta però non lo so poi c'è sta a dire visto che voi siete professionisti voi vi reputate professionisti visto che ho questa guerra che la dico sempre ma c'entra avanti e si può giocare senza c'entra avanti c'è capito c'è anche tu sarli che ti esti competenti parla con società visto che la società fa la squadra dice c'entra avanti guain no per me è un bidone e mi dava a manzo che c'è che manzo dice per me è più fotte di guain non lo so ma secondo me anche i manzo che guain non mai una stagione è ormai finita perché hanno mai quasi 40 anni di cristiano ancora vero questa partita dopo ci si metteva un ragazzino la ken che nel guerriero chido dell'everton il cazzo lo vede e basta anche un giorno avanti capace c'è uno c'entra avanti c'è dove c'entra avanti non c'entra avanti c'è tu io ho capito marketing logo logo anche agnelli perché sapete tutto business cioè non lo so non allestite mai una squadra veramente forte una volta smontato c'è il loro campo una volta l'attacco poi dopo l'attacco poi la difesa poi smontato la difesa cioè non c'è mai una squadra completo in questi anni sembri che smontano sono cioè non vi va io non avete un ragazzo giovane avevo chido la favilla la giro genova visto che non dovete spendere niente perché non c'entra avanti io non lo so guarda se non lo so veramente vergognoso guarda poi proprio interisti ci sputtano è stato fortunato questo scudetto ma l'atalanda quel rigore per mani di muriel se non c'entra quel rigore a che rimpianta l'atalanda sì 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 ovviamente tutto a favore vostro capito però non dici l'atalanda pareggia con verona lì non lo dici però devi pescarsi subito accumbarelo subito venga subito appena sbaglio una virgola subito capito mamma mia e invece le cacolo di lo cazzo dove sono le cacolo no quello mai si va a criticare capito guarda oggi del icto capisce di caccio oggi del icto guarda dipendente che avevo i miei followers mi sono girato del icto e rabbiotto in effetto tutte e due oggi prova sufficiente buono io caro oggi tutte e due buone io caro poi tutti hanno fatto schifo tutte vedi mi piace ronato ronato tipo tutti schifo ronato di barra un tiro solo hanno fatto perché hanno fatto niente schifo vedi vedete essere obiettivi a così essere del icto oggi sbagliavo tra palla a gola all'ultimo di fofanano vandonesimo che poi lì citò la coppa veramente a chilo all'eccesandro capito chilo si fa 60 metri all'eccesandro l'opede se ci vince il tunnel vabbè a poco codice fiscale ovviamente la difesa quello esce a vuoto un altro male della juventus lo dico sempre ma sicuramente c'è la coppa difesa il primo gol colpa di rogani chi lo metta paraceno di nestorowski mamma mia all'eccesandro sta sempre dietro all'eccesandro bernardeschi danilo mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ma questo non lo so anche la juventus una società veramente che da tanti anni che è stata competente anche su questo fatto ma perché unicaccia si è a sti a sti gentile a sti po po sti scassi di giocatura guarda danilo rogani alec cesandro mamma mia ramessi un po po una meteorite unicaccio questo ramsi bernardeschi c'è questo prima il primo male poi se dovete andare sul campione perché forse cosa per i viso non so perché vede attaccare lo campione vabbè facile dei pippe dei pippe guarda all'inizio vi chiamava la mano la mano che in effetti mi sono detto ma su dei pippe poi questo dei pippe oggi non si guarda guarda c'è sa dire lo che hanno fatto assaggi la scuola anche tu anti interista interista voglio dire e anti uventino interista anti uventino ti sa dire quest'anno lo scudetto lo scudetto sai perché lo vengiamo guarda sai cosa dici male ma quale è la chiave di questa squadra a parte che fa schifo come gioco perché aveva un giannefotte che non è manco motivatore una squadra che ci dispiace è triste e abbiamo perso ordine e tu sei un motivatore metti l'ordine lui stesso ha detto ha perso ordine metti l'ordine no ne metti ordine capito perché sei una donna mediocre capito delict delict una minchiata fice subito dei pippe subito e la è lo cazzo e lo cazzo come no non è lì lo cazzo no dovete essere obiettivi nuovi tifosi con i paraocchi poi riguardando la mia squadra ripetiamo alla fine l'ultinese ti fosse una cosa sembra di vincere festa di mandata io non capisco onestamente vabbè lo capisco perché ci abbiamo un allenatore incapace sicuramente la cosa a me è palese 108 gosubiti si quale che cazzo quale che vinci ma gioco penoso 1 a 0 già eri sicuro di vincere 108 gosubiti mamma mia ma poi tutti sti black out ma com'è black out black out black out black out sti cazzo di black out il petto piano black out black out tu sei mai black out c'è rimonte amico mio che ne fotte tre rimonte come sto fatto ma io quale che non ne vedo queste cose eh eh cioè io se mi avevo allegri mica avevi arrivato tu che ne fotte io puntavo per un altro allenatore meglio oltre giocatore va bene oltre quello battine guarda di che malo sangue mi piace fare su stu che ne fotte guarda babbo codice fiscale lo dico sempre tutta la difesa codice fiscale un numerato non lo fa mai bah mai uscita a vuoto la coppa è difesa ma uscita a vuoto sempre andi qua c'è passata eh eh un codice fiscale eh eh ma così volava sul pezzo cioè invece di allungarti nini eh eh codice fiscale nooo dei pippe un codice fiscale mai nessuno lo critica mai tutti mi dicono ma sai che sei il primo il primo eh ma ora il primo ma perché perché io sono un grande osservatore chi sto fatto eh capito si mi puoi dire la difesa centro campo ma chi è il primo il primo male eh ma la colpa non ce l'ha ma mai mai questo codice fiscale la colpa mai da quando buffonno Juve Torino 4 a 1 dopo buffonno quindi Sarri Sarri quest'anno si pinge Scudetto deve ringraziare Ronaldo nell'arco del campionato Ronaldo Di Bala guarda Ronaldo Di Bala e De Ligt quest'anno questi tre e mettereci nel campo guarda l'unico ragazzo che si è impegnato ben da curro ecco questi quattro ma poi le altre tutti di contorno ora se lo spieghiamo un po' con sto rabbiotto ma pure non è che ha fatto sto gran campionato dopo il covid si è dimostrato ma poi le altre è quadrato ecco chi si ammazza poi le altre tutti schifo tutti buffonno i pochi partiti che c'era buffonno un micro di tutti poi tutti schifo schifo capito si blackout con Sassuolo con Sassuolo con Sassuolo no anzi prima a Milano ci puo stare volendo perché a Milano in effetti ci puo anche stare perdere ma con Sassuolo con Milano 2 a 0 4 a 2 blackout Sassuolo 0 a 2 3 a 3 blackout capito poi Galazzo fanno un partitone e poi con l'Udinese 0 a 1 De Ligt se Lukaku fa sti gol di fuori aria va va dici a Lukaku si segna sti gol fuori aria i difensori che erano il gol ma dei vip si si Lukaku mai visto fare un gol di fuori aria su un angolo proprio a volo dentro la rasina ma guarda un po' il sinderista ti preoccupare luminica festeggiamo ti preoccupare festa rimandata che cosa è con l'Udinese 0 a 1 2 a 1 blackout blackout e blackout mattino guarda mi fece mi aveva disintossicato mi fece un video e mi fece innevosire questa partita picciotti la serata perfetta balletti quello l'altro niente invece fu tutto blackout l'Ushambani è blackout ma la colpa di questo sale accenda accenda perché non è un motivatore non è un motivatore ma comunque domenica festeggio io festeggio Pironato Dibalo quello che ho citato Bentacurro Quadrato e Delict queste le 5 diciamo le chiave di questo scudetto queste alla fine sono capito per questo festeggio uno viventino che si è festeggiato capito uno festeggia archeggiato per natura capito ottuso Youtube Você saluto in merda sputti mi sputti mi poi ti sputti io domenica ora posso vedere con Genova poi vediamo la prossima comunque ti saluto buonanotte a tutti niente ragazzi festa rimandata ci vediamo domenica va